Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Molto spesso, quando si racconta la storia, si fanno principalmente due cose. La prima cosa, si raccontano dei documenti storici che sono stati trovati, che ci raccontano avvenimenti, magari in maniera diretta, quindi direttamente come un racconto, un racconto storico, pensate solo alle fonti degli antichi storici romani o greci, oppure in maniera indiretta, come ad esempio succede quando troviamo, ad esempio un foglio di vendita e questo foglio ci racconta come funzionava un'antica fabbrica. A volte invece a raccontarci la storia sono degli oggetti, oggetti di uso quotidiano un tempo e che oggi non esistono più, o magari oggetti che provengono dal passato, ma che poi sono evoluti con il tempo e sono arrivati fino ad oggi. La storia che vi racconterò oggi è proprio quella di uno di questi oggetti, di un'auto. Ora, di auto tutti ne vediamo quotidianamente a bizzeffe, ma quest'auto è particolare perché è la prima auto che sia mai arrivata in Italia. Ovviamente non un'auto prodotta in Italia, questo è ovvio, ma la prima auto che è prodotta all'estero sia stata venduta ad un italiano, la prima auto a solcare le strade della nostra penisola, un'auto che dal 1893 non se n'è mai più andata dall'Italia. È una storia interessante perché ci racconta di un'industria che stava nascendo, appunto quella delle auto, ci racconta delle difficoltà e di chi volesse procurarsi un'auto in quei tempi eroici, diciamo, per le automobili, e ci racconta anche la storia di tutta quest'auto attraverso gli anni seguenti, un'auto che avrebbe potuto essere demolita, distrutta, e che invece in qualche modo è arrivata fino ad oggi. E quindi, ringraziando tantissimo Federico Signorelli che mi ha mandato questa storia, di cui ammetto io non sapevo nulla, e che mi ha mandato anche tante delle immagini che vedrete e che vi assicuro era molto molto difficile da reperire, quindi lo ringrazio tantissimo anche di questo, vi dico che se non siete già iscritti al canale, fatelo, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video, sigla, e poi iniziamo a raccontare della prima auto a circolare in Italia. La nostra storia, prima di essere la storia di un'auto, è però la storia di due aziende. Una che quell'auto la produsse, cioè la Peugeot, e una che quell'auto l'acquistò, cioè le tessiture della famiglia Rossi. Ora, queste tessiture della zona del Vicentino sembrano, messo così, poco conosciute, ma sono sicuro che molti se ne ricordano con un altro nome, la Lanerossi, perché magari soprattutto gli appassionati di calcio si ricordano che questo nome fu legato per molti anni al Vicenza, al Vicenza Calcio, quindi Lanerossi Vicenza. Oggi quel marchio non esiste più, è stato acquisito, ma insomma la fabbrica in sé esiste ancora. Ad ogni modo, la storia della nostra auto, ovviamente, inizia da chi la produsse, cioè la Peugeot. La Peugeot è un'azienda molto antica, non è nata per produrre delle auto, tutt'altro, ma come molte delle prime aziende che produssero auto, lo fecero semplicemente perché si adattarono al cambiamento dei tempi, partendo però da aziende che avevano tutta un'altra produzione. In particolare, la Peugeot è nata addirittura nel XVIII secolo. Il primo a fondarla si chiamò Jean-Pierre Peugeot, era nato nel 1734, e nel corso del XVIII secolo aprì tutta una serie di aziende. una tessitura, produsse ad esempio uniformi per le armate napoleoniche, prima rivoluzionari e poi napoleoniche, un frantoio e aprì un mulino. Proprio partendo da questo mulino, e quindi ovviamente dall'energia che era in grado di produrre, i figli, i tre figli, fondarono una nuova società che si chiamò Peugeot Frères. Quella società abbandonò le produzioni tradizionali, ma nel 1810 divenne una fonderia. Ora, all'inizio del XIX secolo, una fonderia situata tra la Francia, la Germania e l'Inghilterra, cioè tre stati in cui la rivoluzione industriale stava letteralmente per esplodere, si rivelò un buon investimento. E il risultato fu che questa Peugeot Frères continuò a crescere. Negli anni successivi si specializzò in tutta una serie di produzioni metalliche, dai macinacaffè che pensate producono ancora adesso, e che sono rinomati per la loro qualità, prodotti per l'artigianato, seghe, martelli, ombrelli addirittura, insomma tutta una serie di lavorazioni dalle più piccole alle più grandi, sempre nell'ambito dell'acciaio. Nel 1847 nasce anche il simbolo della Peugeot, che è il leone, che poi è stato declinato in vari modi, lo vedete ancora adesso sulle auto. Ma il vero cambiamento avviene due anni più tardi, quando nel 1849 nasce il nipote di Jean-Pierre Armand Peugeot. All'epoca l'azienda era guidata in maniera molto tranquilla, si cercava sostanzialmente di mantenerne la dimensione, mantenerne la produzione, e soprattutto mantenere quelli che erano gli ambiti di lavoro comuni fino a quel momento. Armand però aveva idee ben diverse. Nel 1871 andò a visitare l'Inghilterra, vide come l'industria di quel paese, che all'epoca era l'avanguardia nella rivoluzione industriale, stavano sviluppando tutta una serie di nuove lavorazioni dell'acciaio, ma soprattutto tutta una serie di nuove produzioni, e quando tornò in patria decise di metterle in pratica. Vincendo le resistenze del resto della famiglia, che aveva dubbi sull'investire in nuove situazioni, iniziò innanzitutto a spingere l'azienda a produrre delle biciclette, un mezzo di trasporto che all'epoca era ancora abbastanza innovativo, anche se c'erano ovviamente stati dei modelli precedenti, e che proprio in quel periodo si stava progressivamente diffondendo. Tanto che in pochi anni la Peugeot arrivò addirittura a produrre 25.000 biciclette. All'anno ovviamente. Armand Peugeot però non si accontentò della cosa. Quando era riuscito finalmente a convincere la famiglia che quello poteva essere il business del domani, si rese conto che forse anche il business delle biciclette stava per essere superato, perché all'inizio degli anni 80 e del XIX secolo iniziò a diffondersi per l'Europa una certa smania di produzione di nuovi motori. Qualcosa del genere ne avevamo parlato in una vecchia pillola, vi rimando a quella per avere qualche conoscenza tecnica in più, ma vi basti sapere che in quegli anni si stavano sviluppando tutta una serie di nuovi motori, sempre più piccoli, che potevano essere in qualche modo installati su dei veicoli che potevano in questo modo muoversi su strada a motore. Detto così, sembra un po' l'uovo di Colombo, prendere una carrozza e metterci un motore, ma il grosso problema, come vi spiegai in quella pillola, era legato proprio alle dimensioni. Creare un motore abbastanza potente da poter muovere una carrozza, con ovviamente delle persone sopra, magari qualche oggetto posizionato sopra, ma allo stesso tempo da essere dimensionalmente abbastanza piccolo, da potervi essere installato, non era così facile. E proprio in quegli anni, tutta una serie di ingegneri stavano lavorando a motori di questo genere, praticamente in tutta Europa e al di là dell'Atlantico, negli Stati Uniti. Ovviamente Armand rimase affascinato da questi motori, ma questa volta a convincere la famiglia fu ancora più difficile, anche perché se per le biciclette il costo dell'investimento iniziale era stato abbastanza basso, anche perché i modelli costavano poco, ma soprattutto si poteva letteralmente copiare modelli altrui, per quanto riguardava i motori, le cose erano più difficili, perché non solo avevano un costo maggiore, anche di progettazione, ma bisognava appunto progettarli, perché non c'erano ancora dei modelli abbastanza efficienti da essere utilizzati. Nonostante questo riuscì a raccogliere dei fondi, e nel 1889 all'esposizione universale di Parigi, per intenderci quella per cui fu costruita, la Tour Eiffel poteva esporre il suo primo mezzo a motore. In realtà quella che passerà la storia come la Peugeot Tipo 1, la prima auto prodotta dalla Peugeot, addirittura non aveva neanche quattro ruote, ma era un triciclo, che non era mosso da un motore a petrolio o a benzina, ma era bensì mosso da un motore a vapore, anche perché l'ha stato progettato con un ingegnere che proprio era specialista in questo, che si chiamava Serpolè, chiamata anche appunto per questo la prima automobile Serpolè Peugeot. Proprio a quell'esposizione però, nel 1889, quella macchina si dimostrò essere superatissima, perché due tecnici tedeschi che si chiamavano Daimler, di lui avevamo parlato ovviamente nella pillola, e Maybach, presentarono i loro modelli di motore, un motore decisamente migliore, che utilizzava il petrolio per potersi muovere, e che questi riuscirono non solo a mostrare statico ovviamente nel loro padiglione per le esposizioni, ma che riuscirono anche a montare su una barca che navigò per la Senna e creò molto scalpore, proprio per la dimensione del motore e allo stesso tempo per le sue capacità di muovere la macchina senza grosse difficoltà. Inutile dire che Armand Peugeot fu affascinato da questi motori, mise da parte quello che aveva creato per la Peugeot Tipo 1, e decise che avrebbe dovuto utilizzare uno di quei nuovi motori. Da solo però non ce la faceva, aveva già chiesto tanto ai suoi familiari, doveva trovare un socio per poter ottenere quei motori, e quel socio si chiamò Levassor, ed era un industriale che lavorava, pensate un po', nella lavorazione del legno, aveva una grande segheria. Ora, quello che potete immaginare è che i due, l'anno successivo, nel 1890, si presentarono proprio da Daimler, chiedendogli di poter avere i suoi motori. Ora, Daimler non aveva una struttura in grado di produrre un gran numero di motori, e quindi quello che poteva fare fu di vendere la licenza per produrre 100 dei propri motori proprio a Levassor, i quali le avrebbe dovuto utilizzare 70 per le proprie macchine, quelle macchine che venivano utilizzate appunto in segheria, e vendere invece gli altri 30 a Peugeot, che proprio con quei motori avrebbe dovuto fare le proprie auto. In realtà le cose andarono poi un po' diversamente, perché anche Levassor non riuscì a piazzare tutti i 70 motori che aveva creato in meccanismi per le segherie, e alla fine, pensate, anche lui si decise ad aprire un'azienda automobilistica, la Panar e Levassor. Ricordatevela perché tornerà più avanti nella nostra storia. Peugeot, invece, utilizzando proprio quei motori, nel 1891 riuscì a produrre la sua prima auto a quattro ruote che montava un motore Daimler, la cosiddetta Peugeot Tipo 2, che pochi anni più tardi sarà aggiornata nella Peugeot Tipo 3, che poi è la protagonista della nostra storia. La Peugeot Tipo 3 non solo divenne un discreto successo commerciale per la Peugeot, e stiamo parlando nell'ordine di qualche decina di ordini, questi erano i numeri delle vendite dell'epoca, ma divenne soprattutto un grande volano commerciale, perché venne utilizzata, grazie alla sua velocità, riusciva a raggiungere i 35 km all'ora, per partecipare alle prime gare su strada. E' proprio la vittoria di alcune di queste gare, in particolare la Paris-Girouen del 1894, che divenne un po' l'esplosione del marchio Peugeot nel mondo delle auto. Ma noi qua ci fermiamo, perché quello che ci interessa è proprio questa macchina, la Peugeot Tipo 3, che nel 1893 diventerà la protagonista della nostra storia. Quindi ci fermiamo, passiamo all'altra azienda, l'azienda Rossi, e facciamo anche qui un piccolo passo indietro. La seconda industria, infatti, nasce dopo la Peugeot, perché le tessiture rossi nascono nel 1815, a Schio, in Veneto. Ora, all'epoca, una tessitura in effetti era qualcosa di abbastanza comune, soprattutto nel nord Italia, tra Lombardia e Veneto, ce n'erano moltissime, ma le tessiture rossi non solo si specializzarono ben presto nella lana, peraltro con un'ottima qualità, cosa che ne fece un nome molto conosciuto, ma ben presto iniziarono a investire anche sulle nuove tecnologie, e soprattutto quando a Francesco succedette il figlio Alessandro, che costruì le prime macchine meccaniche, mosse ovviamente a vapore, per tessere la lana, cosa che permise di aumentare la produzione e ovviamente di espandere l'azienda, tanto che negli anni successivi sorsero una serie di stabilimenti, tra cui uno nella cittadina di Piovene, Rocchette, in provincia di Vicenza. A questo punto, entra in scena il terzo, la terza generazione della famiglia, con il quinto di undici figli di Alessandro, che si chiamava Gaetano. Gaetano Rossi era un uomo che un po' come Armand Peugeot aveva viaggiato molto, era stato in Francia, era stato in Inghilterra, qui aveva visto che cos'era stata la rivoluzione industriale, aveva visto come gli industriali di queste zone letteralmente fossero in competizione continua l'uno con l'altro per cercare di approntare sempre nuove migliorie tecnologiche per aumentare la produzione e aumentare la qualità. e quando era tornato in patria era stato mandato dal padre a gestire lo stabilimento di Piovene Rocchette proprio per cercare di sperimentare queste nuove lavorazioni. C'era un problema però. Tra Piovene Rocchette e Schio, dove Gaetano continuava a vivere, c'erano 15 chilometri, una distanza che inizialmente Gaetano iniziò a fare in carrozza, rendendosi però ben presto conto che questo gli portava via troppo tempo. Anche perché voleva dire ogni giorno partire da casa, andare all'azienda di famiglia e poi tornare indietro. E ovviamente questo gli faceva perdere troppo tempo. Dato che aveva iniziato a sentir parlare di questi nuovi mezzi meccanici che potevano raggiungere queste alte velocità e che pare che fossero un po' la novità del tempo queste automobili che provenivano dalla Francia e dalla Germania, decise di interessarsi e di comprarne una. Che cosa voleva dire comprare una macchina all'epoca? Beh, calcolate che all'epoca in Italia di auto non ce n'erano. Ovviamente non c'erano aziende produttrici di auto, questo mi sembra ovvio, ma era anche molto difficile trovare degli intermediari per queste auto perché bisognava trovare qualcuno che conoscesse direttamente la fabbrica di produzione che fosse come spesso era all'epoca in Germania o appunto le prime in Francia e che potesse in qualche modo avere un contatto per farsi costruire un'auto. Letteralmente farsi costruire un'auto perché dimenticatevi l'andare dal venditore di auto trovarsi davanti i modelli dire ma voglio questa magari cambiare il colore della carrozzeria no, all'epoca voleva dire ordinare un'auto e quell'auto doveva essere costruita impacchettata e spedita fino a colui che l'aveva comprata e fu proprio questo procedimento che dovette mettere in campo Gaetano Rossi. Rossi inizialmente cerca la sua auto a Milano e qui conosce un intermediario che vende proprio auto per conto di Daimler e che lo mette in comunicazione con l'azienda la quale gli comunica che in effetti può fornirgli un'auto ma che ci vorranno almeno sei mesi perché gli ordini si sono accumulati e ovviamente ci va del tempo per poterli smaltire. Gaetano però non ha tutto questo tempo da perdere e così tramite una serie di passaggi riesce a venire a contatto proprio con la Peugeot la quale gli comunica che invece loro possono fornirgli un'auto in tempi decisamente più rapidi. Gli mostrano il modello appunto la Tipo 3 che intanto era stata da poco prodotta e proprio quel modello convince il nostro Gaetano che decise di acquistarla. In realtà poche settimane più tardi la Daimler si fece nuovamente sentire facendo sapere che intanto erano riusciti ad accelerare le cose e gli avrebbero potuto fornire un'auto in tempi più rapidi ma Gaetano fece sapere loro che ormai aveva acquistato la Peugeot e questo pensate creò un piccolo diverbio per così dire tra le due aziende anche perché Daimler si ricordava benissimo che i motori che stava utilizzando Peugeot erano i suoi e in questo modo gli avevano fregato un potenziale cliente. Ora voi direte una macchina che cosa cambia? Come vi dicevo prima in realtà una macchina per l'epoca era tanto. Pensate che Gaetano Rossi pagò quell'auto che vedete nell'immagine non era sicuramente un'auto particolarmente grande era veramente una carrozza mossa a motore che non aveva neanche il volante aveva una specie di bastone che serviva appunto per muovere lo sterzo e permettere appunto di muoverla pensate pagò quell'auto l'equivalente di 200.000 euro attuali quindi un prezzo decisamente molto molto alto in quel prezzo curiosamente circa il 20% del prezzo era in realtà fatto da pezzi di ricambio perché ovviamente dato che non c'erano auto non c'erano neanche officine e in generale procurarsi dei pezzi di ricambio era difficile bisognava trovare qualcuno che li facesse appositamente e quindi quando le aziende vendevano le loro auto vendevano insieme anche tutta una serie di pezzi di ricambio così che se qualcosa si fosse rotto si potesse in questo modo subito aggiustare verranno poi è un po' il concetto che se ci pensate ancora oggi c'è per le auto di super lusso in cui se ti si rompe qualcosa parlo ad esempio di Ferrari Lamborghini qualcosa del genere molto spesso se chiedi all'azienda produttrice in tutti i soldi che hai speso per acquistare la macchina c'è anche la possibilità che l'azienda ti mandi direttamente un tecnico ad aggiustartela all'epoca era ancora più complicato perché gli spostamenti erano più lenti e quindi si preferiva mandare direttamente i pezzi di ricambio così che potessero essere utilizzati finalmente il 2 gennaio 1893 l'auto che era stata ordinata circa 4 mesi prima arriva finalmente a Piovene Rocchetta e Gaetano Rossi dopo aversela essere trovato davanti probabilmente dopo che qualcuno gli aveva anche spiegato come utilizzarlo non esisteva la scuola guida non esisteva le patenti ma qualcuno doveva spiegarti fisicamente come utilizzare quell'auto diciamo che in 200.000 euro ci stava anche il tecnico che ti spiegava tutto ad ogni modo finalmente Gaetano Rossi poteva iniziare a utilizzare la sua auto per fare quei 15 chilometri in una direzione e poi nell'altra molto rapidamente quell'auto quella strana curiosità divenne appunto la curiosità di tutti gli abitanti intorno che erano soliti veder passare il padrone della fabbrica in avanti e in indietro pare pensate che si racconti che fosse talmente preciso che ad un certo punto i contadini erano soliti regolare gli orologi e farsi l'idea più o meno di che ora fosse ovviamente non avevano gli orologi da polso ma era un modo per capire che ora fosse proprio ascoltando il rombo della macchina perché si dice che quando Gaetano tornava indietro con la sua auto quella fosse l'ora per smettere di lavorare e tornare a casa nel 1896 però Rossi decide di acquistare un'altra auto e dato che si era trovato bene con la Peugeot decide di acquistare un nuovo modello Peugeot la Tipo 9 la Tipo 3 però non viene restituita non viene smantellata ma viene ceduta da Rossi ad un amico che si chiama Guido Lazzari è figlio di un famoso banchiere e vive in Friuli che viene a prendere la Tipo 3 e se la porta a casa la utilizzerà per alcuni anni poi a sua volta la metterà da parte e comprerà nuove auto in realtà però per i primi anni la Tipo 3 rimane abbastanza protetta e integra le cose cambiano però nella Prima Guerra Mondiale perché Lazzari durante la guerra acquista un campo non lontano da casa dà il permesso agli aerei di atterrare durante la guerra e dato che si sa insomma gli aerei potevano avere dei danni c'era sempre bisogno di un pezzo di ricambio la macchina viene progressivamente spogliata prima di un pezzo poi di un altro proprio per riuscire ad aggiustare gli aerei nonostante quello la struttura e il motore rimangono sostanzialmente integri e quando Lazzari alla fine della guerra si trasferisce si porta ancora con sé la macchina che lo seguirà nei suoi spostamenti fino alla morte nel 1956 alla morte di Lazzari però il fratello che ne aveva ereditato le proprietà di quell'auto non sa cosa farsene e quindi decide di cederla a un antiquario di Udine il quale l'acquista e cerca di capire che cosa quell'auto sia il problema che viene analizzato in maniera errata si capisce che è una Peugeot si capisce che è una Peugeot anche abbastanza antica anche se non si sa benissimo quale sia il modello si capisce che ha un motore Daimler ma la si scambia per un'auto dell'anno successivo del 1894 per un po' di anni rimane da questo antiquario che cerca di piazzarla inizia a far girare anche delle storie dicendo che quella fosse stata un'auto addirittura guidata da Giovanni Agnelli quando aveva fatto il militare in Veneto 5 anni prima di fondare la Fiat ma non riesce a piazzarla inizia però a far circolare voce tra le varie filiali della Fiat sparse nel nord Italia che lui potrebbe cambiare letteralmente scambiare quell'auto così antica con una nuova 1100 una nuova Fiat 1100 perché questo? beh perché all'epoca Carlo Biscaretti di Ruffia stava proprio attraverso le varie filiali della Fiat cercando di recuperare tutte le macchine più vecchie o comunque modelli più particolari che ancora si trovavano in Italia molto spesso scambiandole con auto nuove per poterle acquisire restaurare con l'idea di fondare un museo il museo dell'auto che sarà in effetti fondato nel 1957 e che poi dal 1963 si trova nell'attuale sede una sede che peraltro qualche anno fa è stata restaurata si trova a Torino vedete passando su corso Unità d'Italia uno dei principali corsi di ingresso di Torino e che se volete potete ancora andare a visitare adesso peraltro l'edificio è molto bello e ci sono tantissime auto all'interno anche una volta piazzata nel museo però l'auto continua ad essere non del tutto compresa certo si capisce finalmente che è una tipo 3 ma viene ancora erroneamente datata al 1894 tanto che viene restaurata proprio come le auto prodotte nel 1894 e tale rimane per tantissimi anni nel 1998 però il presidente del club Peugeot e un giornalista viaggiarono fino a Parigi osservarono andarono a scrutare i libri mastri della Peugeot quelli in cui erano proprio annotate le prime auto che erano state prodotte e scoprirono che la 25esima auto venduta dalla Peugeot era stata proprio venduta in Italia trovarono il nome di Gaetano Rossi e si misero a caccia di quell'auto beh immaginatevi la loro sorpresa quando scoprirono che quell'auto ce l'avevano già praticamente sotto gli occhi perché quando andarono ad analizzare ancora una volta l'auto che era conservata al museo museo dell'auto di Torino teoricamente come un'auto del 1894 scoprirono che quell'auto aveva non solo il giusto numero di telaio il 125 ma anche il 124 chiedo scusa ma anche il giusto numero di motore il motore Daimler utilizzato dalla Peugeot numero 25 quindi l'auto che stavano cercando l'auto venduta a Gaetano Rossi la prima auto venduta in Italia era proprio quella Peugeot tipo 3 che era conservata a Torino e che negli anni successivi sarà poi restaurata nelle sue giuste condizioni e che ora trovate proprio all'ingresso del museo vi ricordate che all'inizio quando Armand Peugeot aveva acquistato i motori Daimler li aveva comprati insieme a un industriale che si chiamava Levasor che teoricamente avrebbe dovuto utilizzare i suoi 70 motori per produrre dei mezzi degli strumenti da segheria e che invece poi ci fece anche lui delle auto beh pensate che una macchina venduta proprio dalla sua azienda la Panar Levasor era stata per molti anni considerata la prima auto immatricolata utilizzata in Italia perché era stata venduta l'anno successivo nel 1894 al Marchese Ginori per tanti anni era stata considerata tale e solo dopo che si scoprì appunto la storia della tipo 3 del 1893 di Gaetano Rossi venne per così dire retrocessa a seconda auto e quando iniziò invece la produzione di auto in Italia? beh iniziò praticamente negli stessi anni nel 1894 sempre in Veneto che per qualche motivo è legatissima alle prime auto in Italia nacque infatti la Miari e Giusti che fu la prima azienda a produrre delle auto in Italia prodotte su modello di un ingegnere che si chiamava Enrico Bernardi che da alcuni anni stava lavorando in maniera parallela ad altri ingegneri in giro per l'Europa proprio a motori simili a quelli di Daimler quindi la storia della produzione in Italia inizia in Veneto pochi anni più tardi però sarà fondata la Fiat a Torino che come sapete divenne progressivamente la principale fabbrica di automobili in Italia forse la non la più conosciuta basti pensare alla Ferrari che oggi come oggi è l'azienda più conosciuta ma sicuramente col tempo la più grande ed importante qui finisce la mia storia qui finisce la storia che ho raccontato grazie a quello che mi ha scritto Federico Signorelli che ripeto ringrazio tantissimo perché ha trovato una marea di informazioni devo essere sincero è stato persino a volte difficile trovare altre immagini da aggiungere alle sue perché mi ha trovato tutte le migliori che avete visto erano sicuramente mandate da lui quindi ringrazio tantissimo lui come ringrazio tantissimo tutti quelli che mi mandano continuamente delle pillole da raccontare grazie di tutto quello che mi fate scoprire ripeto io di questa storia prima di lui non ne sapevo assolutamente nulla grazie delle pillole che mi permettete di girare io mi fermo qua spero che questa storia vi sia piaciuta se volete potete riascoltarla ovviamente qui sul canale potete riascoltarla sul nostro podcast se volete anche voi mandarmi delle pillole potete farlo tramite i nostri social facebook instagram telegram la mail che forse è la cosa più importante e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere le loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia a presto ciao ciao ciao